Siamo dopo la morte di Falcone, verso fine giugno del 92, la dottoressa Ferraro mi informa che è venuto da lei un capitano dei Carabinieri, capitano De Donno, che le ha detto, senta noi stiamo agganciando Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo, noto mafioso, anzi secondo Falcone il più pericoloso, perché era il più politico dei mafiosi e il più mafioso dei politici. E questo capitano De Donno dice alla dottoressa Ferraro le seguenti cose, bisogna fermare le stragi, noi abbiamo agganciato Vito Ciancimino, può essere una collaborazione utile, però abbiamo bisogno di una copertura politica, non possiamo, noi intende il capitano De Donno, io e il mio superiore, colonnello Mori, abbiamo bisogno di una copertura politica che ne può parlare al ministro. Come la dottoressa Ferraro me ne parla, io dico alla dottoressa, tu intanto informa Borsellino, che era il procuratore aggiunto di Palermo e che era, come sappiamo tutti, collaboratore e amico di Giovanni Falcone, l'uomo destinato a succedergli, perlomeno nelle mie speranze, alla guida della procura nazionale antimafia, che io penso a richiamare all'ordine questi ufficiali dei carabinieri perché stanno uscendo fuori dal seminato, si stanno prendendo delle iniziative che non sono di loro competenza e quindi ne ho informato il ministro degli interni Mancino. Nel mese di ottobre il capitano De Donno torna al ministero a parlare con la dottoressa Ferraro e questa volta chiede, niente po' di meno, che venga rilasciato il passaporto a Ciancimino. A quel punto io di persona chiamo il procuratore generale di Palermo, competente nel rilascio dei passaporti a persone che hanno problemi con la giustizia, si chiamava Bruno Siclari, diventerà poi procuratore nazionale antimafia, gli racconto la storia, gli dico quali sono le mie contrarietà e il procuratore generale di Palermo fa riarrestare Ciancimino, che era stato arrestato e poi scarcerato. Questo è quel che io sapevo allora. Quello che sono venuto a sapere più di recente, in questi ultimi tre anni, dal 2009 ad oggi, in un crescendo di rivelazioni, è che quegli ufficiari dei carabinieri agivano sotto il comando del loro comandante generale, generale Subranni, quindi non era un'iniziativa solo loro. A sua volta non credo proprio che Subranni agisse per conto proprio, mi sembra assolutamente improbabile. E poi ho legato i miei ricordi di allora con quello che sono venuto a sapere oggi. I miei ricordi di allora sul piano politico sono i seguenti. Qualcosa ha già accennato Mauro Del Bue e lo ringrazio per le parole che ha detto. Primo, anch'io non credo che Andreotti sarebbe mai diventato Presidente della Repubblica, ma è sicuro che la strage di Capaci accelera una soluzione, pur che sia, e questa soluzione va a cadere su Scalfaro. che era diventato popolare in alcuni ambienti politici perché era diventato l'antagonista di Cossiga. Contro il presidente esternatore, picconatore, Scalfaro, presidente della Camera, si era fatto una fama di uomo ligio le leggi. In particolare poi era gradito a Craxi perché era stato il ministro degli interni di Craxi. Dunque Scalfaro diventa Presidente della Repubblica in quella circostanza. È stato eletto e ambienti del Quirinale fanno sapere ai miei uffici, al Ministero della Giustizia, che noi, io e Scotti, come ho detto prima, avevamo preparato il decreto dopo l'assassinio di Falcone, detto decreto Falcone, che conteneva quelle misure eccezionali, 41 bis, nuove norme sui pentiti e tante altre cose. Il Quirinale ci fa sapere che ha dei dubbi sulla costituzionalità del decreto. Prima di andare al Quirinale a spiegarci, io e Scotti, io vado dal presidente della Corte Costituzionale dell'epoca, Casavola, gli spiego la ragione del 41 bis e lui mi dice guardi, presidente, la cosa migliore da fare è dare un carattere di temporaneità a questa misura per superare i dubbi di costituzionalità. Voi vi chiederete ma perché la Costituzione vieta il 41 bis? La Costituzione vieta che ci sia un trattamento diverso tra cittadini della Repubblica, vieta l'esistenza di circuiti penitenziari diversi, nega che ci possa essere una giustizia speciale. Più volte però su questo punto in particolare nell'emergenza del terrorismo questa norma costituzionale è stata diciamo aggirata in nome di un'emergenza di un pericolo maggiore e in condizioni di temporaneità. Quindi belli preparati andiamo a parlare a Scalfaro Scalfaro ci riceve non parla manco per sogno del decreto comincia a dirci ah io sono molto angosciato tenete presente che è la prima volta in vita mia che io ero colloquio con Scalfaro lo conoscevo ben inteso ma non avevo mai parlato con lui sono angosciato ci dice Scalfaro io dovrei dare l'incarico a Craxi però non posso non vedere c'è una campagna di stampa che ha dei caratteri diabolici in particolare in quel giornale quel direttore si riferiva a Eugenio Scalfari però come faccio a non tenere conto della situazione Craxi era già nel mirino del pool di mani pulite le indagini ormai avevano colpito uomini molto vicini a lui alcuni si erano dati alla latitanza altri erano stati arrestati i due ex sindaci di Milano Tognolo e Pelliteri erano sotto indagine quindi la tempesta di mani pulite si stava avvicinando pericolosamente a lui e Scalfaro certamente ne era più che consapevole e cercava probabilmente un pretesto per non dargli l'incarico a un certo punto dice e poi se non lo do Craxi a chi lo do e vedo sui giornali sui giornali imperversava il toto presidente chi sarà visto che non sarà Craxi chi sarà il toto presidente e chi parla di Martina Zoli ma io non so dice Scalfaro non sono convinto chi di Forlani ma Forlani dice meglio che resti tutto da solo e poi dice i socialisti a quel punto capisco doveva parare e gli dico no presidente vuole dare a Craxi l'incarico e lui come se non avessi fiatato e chi hanno i socialisti hanno amato ha fatto un ottimo sottosegretario però non so se potrebbe e poi hanno De Michelis molti lo criticano Cappellone invece dice Scalfaro a me non dispiace mi sembra molto dinamico e poi hanno Martelli e comincia a parlare di me come se io non fossi lì presente in terza persona e Martelli mi dicono potrebbe portare qualche voto in più i radicali forse i verdi dico no presidente lo deve dare a Scalfari e lo deve dare a Craxi e lui continua con la sua litania sgranando questo rosario di ipotesi e di nomi finché poi ci congeda e mi ricordo che sull'uscio la porta vetrata andando se scotti un po' la napoletana gli fa a presidere se poi un governo riesce a farlo noi due lo facciamo un governo e io giungo beh dietro Craxi ma secondi a nessun altro salgo in macchina saranno passati 15 minuti dal colloquio con Scalfaro forse 20 non lo so e mi raggiunge una telefonata di Marco Pannella che mi dice ma che è successo tra te e Scalfaro niente ha fatto il toto presidente niente di speciale stavo per raccontare e dice no no guarda sta attento Claudio che quello ti sta giocando uno scherzo da prete e cioè e quindi a maggior ragione la sua testimonianza era importante sta dicendo in giro che tu sei andato a candidarti al posto di Craxi che cosa? e mi metto a cercare Craxi e Craxi per spiegare e Craxi non si fa trovare ma non è che non si è fatto trovare quel giorno o il giorno dopo o il giorno successivo siamo al 15 giugno del 1992 da quel momento sino al gennaio del 93 Craxi mi ha negato un colloquio diretto a tu per tu un giorno sono entrato nel suo ufficio senza chiedere il permesso gli ho detto guarda che io non mi sono mai sognato di candidarmi al posto tuo lui ha alzato gli occhi dalle carte che stava sfogliando dice questo non è più il problema si è alzato e è uscito dalla stanza e non ha più parlato con me per 7 mesi consecutivi dopo 25 anni amicizia segno che il veleno che gli aveva versato Scalfaro era andato molto in profondità questo lo sapevo già allora come già allora sapevo che aveva manovrato per sostituire scotti il resto questo l'ha confermato Mancino che è andato al posto di scotti che ha dichiarato la commissione antimafia a volermi ministro degli interni al posto di scotti fu in primis il presidente Scalfaro dunque io pensai che Craxi quando disse ad Amato dire a Martelli che non voglio che rimanga la giustizia fosse avvelenato nei miei confronti forse c'era anche questo ma c'era da capo lo zampino di Scalfaro che voleva togliere di mezzo non solo scotti ma anche Martelli solo che io puntai i piedi e dissi no io non vado in nessun altro ministero perché mi offrono la difesa ho cominciato un lavoro credo importante qua tra l'altro ho appena perso un amico un uomo come Falcone ho resto la giustizia o torno al partito e do a battaglia tre giorni dopo mi richiama Giuliano Amato per dirmi Craxi ha detto che i tuoi sono buoni argomenti segno che Craxi non c'entra nulla con questa storia di mafia probabilmente ha agito su impulso di Scalfaro anche qua che voleva togliere di mezzo scotti e Martelli con scotti c'è riuscito con Martelli non c'è riuscito per un po' sette mesi dopo ci riuscirà perché sono costretto a dimissioni da un avviso di garanzia che ripesca una storia che non c'entra niente con Tangentopoli una storia di finanziamento illecito al PSI quella del conto protezione che è di tredici anni prima viene improvvisamente riciclata sulla stampa da Gelli poi da Pisano e poi stranamente confermata dall'architetto Larini che si consegna e in cambio dell'immediata libertà racconta ai giudici questa versione questo per quel che mi riguarda mi sono dimesso da ministro della giustizia il 12 febbraio del 92 il 20 dello stesso mese si riunisce il comitato per l'ordine e la sicurezza all'ordine del giorno c'è che fare col 41 bis uno pensa visto che ha dato tanti ottimi risultati vorranno rafforzarlo estenderlo no all'ordine del giorno c'è come liberarsi del 41 bis chi propone di ablogarlo per legge chi propone di revocarlo chi propone di attenuarlo chi propone di richiudere da capo i carceri di Pianoso e la Sinara chi partecipa alla riunione il nuovo ministro della giustizia Conso voluto da Scalfaro il nuovo ministro degli interni voluto da Scalfaro Mancino poi si apprende da un giornale come il Foglio che certamente non è un giornale mio amico in un'intervista del giornalista Claudio Cerasa a due padri cappellani cappellani delle carceri che raccontano come nel febbraio del 92 del 93 scusate 93 siano stati convocati da Scalfaro al Quirinale e Scalfaro pone ai due cappellani il quesito ah basta con questo Niccolò amato direttore delle carceri mi dicono è un dittatore brutale è troppo duro eccetera ditemi voi il nome di qualcuno di un magistrato che possa essere più umano più caritatevole nei comportamenti interni alle carceri e quelli gli fanno il nome di questo Capriotti un magistrato di Trento che di mafia proprio non si era mai occupato in vita sua com'è 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 non è pochi mesi dopo Niccolò amato viene cacciato da direttore senza spiegazione dell'amministrazione penitenziaria e al suo posto va a Capriotti allora ricapitoliamo in brevissimo Scalfaro era contrario dall'inizio al 41 bis perché ce lo fa sapere al ministero Scalfaro fa togliere di mezzo Scotti e ci mette Mancino in primis mi ha indicato il presidente della Repubblica Scalfaro intriga cercando di sobillare Craxi contro di me ma non gli riesce per un po' gli riuscirà sette mesi dopo Scalfaro mette al posto di Niccolò Amato Capriotti che come è nominato direttore delle carceri chiede con lettera al ministro della giustizia conso un'attenuazione del 41 bis è o non è il regista il dominus di quello che io non chiamo trattativa io la chiamo la normalizzazione il ritorno alla Pax mafiosa la filosofia che ispira questa politica che è una strategia politica è chiarissima bisogna togliere di mezzo gli esagerati che hanno preso troppo sul serio la lotta alla mafia come Martelli Scotti Niccolò Amato e bisogna che la mafia dalla sua parte tolga di mezzo quel pazzo sanguinario di Rina e si tranquillizza tutta la situazione si torna alla normale convivenza che c'è sempre stata